Com'è il rapporto di Fontana Arte? La storia del design italiano. I progetti di Franco Raggi, Daniela Kup, Gau Lenti, progetti importantissimi che io ho sempre guardato con molta attenzione, hanno fatto sì che dentro di me si è creata la consapevolezza che Fontana Arte sarebbe stato un bellissimo approdo per ogni designer. E finalmente quest'anno riusciamo a portare al salone tre lampade da me disegnate. Innanzitutto la tipologia di lampada, due applique. Ho voluto veramente dedicarmi all'applique perché ho voluto restituire a questo oggetto una sorta di dignità formale, estetica e anche funzionale. L'idea dell'applique che ho disegnato è molto semplice, un hardware che si fissa al muro con un'illuminazione a led e una sorta di cover di vestito che può cambiare mantenendo però la struttura hardware che abbiamo progettato insieme. Quindi per questa prima uscita c'è una applique con un corpo in alluminio, una pressofusione di alluminio abbastanza particolare con una scanalatura interna e poi un vestito in ceramica. Ma immagino che ci potranno essere ancora in futuro altri vestiti per questo tipo di lampade. A ciò si aggiunge una lampada da terra con un movimento, una sorta di frizione data dal magnetismo. È un tema che mi è caro, che ho già affrontato per altre lampade. È tutto ancora da indagare, questa modalità di movimento di un corpo luminoso che scorre lungo l'asta verticale. Qua c'è stato uno sviluppo tumultuoso della lampada, molto sofferto ma anche molto partecipato che ci ha permesso di fare degli avanzamenti che io ricordo con molta passione. È anche una sorta di sfida verso le regole, i tempi, i materiali da utilizzare e anche la soddisfazione di vedere in Fontana Arte un prototipo pressoché definitivo. Credo che sia quella la lampada che mi piace di più di tutto quello che ho fatto quest'anno per Fontana Arte. Per me l'innovare fa parte del lavoro di ogni giorno. Ogni volta che si disegna una cosa nuova è un po' come dimenticarsi di ciò che è già stato fatto. Le cose della natura, gli animali, le persone invecchiano naturalmente appunto, ma gli oggetti invecchiano solo quando arrivano degli altri oggetti, progetti che rincalzano, che vanno a sostituire ciò che esiste già nel nostro immaginario visivo. Ecco allora che il designer è destinato al compito di far invecchiare le cose, progettando le nuove. È una sorta di comandamento, una cosa dovuta e che fa parte del nostro processo creativo. Per processo creativo cosa intendo? Questa modalità di mettersi al tavolo con una penna o una matita, un foglio bianco e cominciare a disegnare cose che già esistono. Lentamente sul foglio si vanno a comporre cose che in aggiunta a ciò che già esiste si propongono cose nuove, modalità diverse per affrontare un tema come quello per esempio della luce che è vecchio quanto il mondo. Cioè portare la luce all'interno delle case, trattarlo come un argomento decisivo per l'arredo, per ispirare determinate situazioni ambientali, giocare tra luce e ombra sul movimento, l'inconsueto, l'imprevisto. Come succede proprio per queste nuove lampade che ho disegnato per Fontanarte, è un grande tema progettuale che scopro sul mio foglio il giorno dopo quando vado a rivedermi gli schizzi. Perché progettare anche questo, progettare l'inconsueto e l'inaspettato, anzi credo che l'argomento della sorpresa sia il tema più importante. Io mi immagino già il giorno in cui presenteremo queste lampade, soprattutto la lampada da terra che ancora non ha un nome, come sarà bello verificare e far vedere alle persone che ancora non l'hanno vista quanto sia fluido questo movimento e anche inaspettato, il movimento del corpo luminoso che scorre sulla barra verticale. E questo fa parte del progetto, cioè lasciare un po' a bocca aperta e dire non ci avevo mai pensato, avrei potuto pensarci io. Credo che sia il trucco del progetto e quello che dà sostanza e motivazione alla mia vita.